Allora, che cosa avevamo detto l'altra volta? Beh me lo potrebbe dire anche qualcuno di voi. L'altra volta, ciao buonasera, l'altra volta abbiamo praticamente introdotto quelli che sono i fenomeni di base di tutto ciò che è elettrico. Abbiamo parlato della carica elettrica, del fatto che gli elettroni sono, sono delle particelle che sono in qualunque materiale, hanno una carica elettrica che è a disegno contrario a quelle che invece sono nel nucleo degli atomi e questo è un po' il motivo per cui gli elettroni stanno attaccati agli atomi, nel senso che non se ne vanno per conto loro ma stanno attaccati lì, perché le cariche elettriche a disegno contrario si attraggono mentre quelle a disegno uguale si respingono. Gli elettroni stanno attaccati agli atomi, però i legami che tengono gli elettroni attaccati agli atomi sono variabili, molto variabili a seconda del materiale e ci sono dei materiali, in particolare i metalli, che hanno dei legami molto deboli, per cui con un campo elettrico esercitato esternamente tu questi elettroni riesci a spostarli. Quando sposti gli elettroni parliamo di corrente elettrica, cioè la corrente elettrica non è altro che degli elettroni che si spostano, si spostano da un atomo all'altro saltellando da un atomo all'altro ad una velocità folle, però di fatto è così che funziona. I campi elettrici possono essere ovviamente positivi o negativi e per convenzione tutti pensano che la corrente elettrica viaggi dal più al meno, nella realtà non è così, viaggia dal meno al più, però tutti i discorsi che faremo in seguito daranno per assunto che la corrente viaggia dal più al meno, anche se non è vero, e le cose di base funzionano lo stesso. Nei materiali ci sono delle grandi differenze strutturali, per cui certi materiali hanno un'estrema difficoltà a far passare gli elettroni, altri invece li fanno passare molto facilmente, e quindi a seconda del materiale noi possiamo dire che i materiali oppongono una certa resistenza al passaggio degli elettroni. La resistenza dipende non solo dal tipo di materiale, ma dipende dalla lunghezza del conduttore, dipende dalla sezione del conduttore, poi vedremo che dipende anche dalla temperatura, però più che parlare di resistenza, per quanto riguarda i riferimenti al materiale, si parla di coefficienti di resistività, cioè nel senso che ogni materiale ha un suo coefficiente di resistività che è un fattore fisso, dipendente da quel materiale. Poi a seconda della lunghezza del pezzo di materiale, a seconda della sezione del pezzo di materiale, la resistenza reale dipende anche da quello. Il materiale che conduce meglio è l'argento, è il miglior conduttore che si conosca a temperatura ambiente, il materiale che conduce peggio di tutti sono tutti i materiali inerti derivati dal silicio, tipo il vetro che è il biossido di silicio in forma amorfa, non è cristallino. Però, tutto sommato, le resistenze, tutti i valori intermedi tra un buon isolante, quindi che non fa passare quasi niente, e un buon conduttore che fa passare tutto, ci sono tutta una scala enorme di valori che vengono utilizzati in elettronica. Perché vengono utilizzati? Vengono utilizzati perché, per esempio, quando gli elettroni attraversano una resistenza, producono calore. Il famoso effetto Joule, che fa scaldare i materiali, e questa cosa è sicuramente uno degli effetti che noi in passato abbiamo usato e che continuiamo a usare in elettrotecnica più che in elettronica. Quindi ci sono dei componenti specifici, di valori specifici, che hanno un valore specifico di resistenza. Quindi esiste anche un'unità di misura di resistenza. E allora, a proposito di unità di misura, dobbiamo dire che la resistenza si misura in Ohm. Però l'altra volta abbiamo parlato anche di altre unità di misura, molto più importanti. Abbiamo parlato dell'unità di misura di carica elettrica, chi si ricorda come si chiama? Coulomb. Abbiamo parlato della unità di misura di intensità di corrente. Che cos'è un Ampere? Un coulomb al secondo. Perfetto. Quindi proprio lui esprime il numero di elettroni che transitano nell'unità di tempo. Abbiamo parlato dei volt. Che cosa sono i volt? Sono espressione della differenza di potenziale. Cioè nel senso che, se io metto, il paragone è sempre quello, se io metto due vasi comunicanti con due livelli molto diversi di acqua, ma più sono diversi questi livelli e più in qualche modo è forte la spinta dell'acqua dove ce n'è di più a migrare dall'altra parte. Man mano che il livello si pareggia la spinta diminuisce. Questo qui è un fenomeno che avviene in maniera del tutto analoga nei dispositivi elettrici e viene chiamato differenza di potenziale. Anzi, viene chiamato in sé per sé forza elettromotrice. Se poi questa forza elettromotrice viene mantenuta da un dispositivo, viene mantenuta nel senso che c'è un dispositivo che sfrutta una qualche altra forma di energia, tipicamente energia chimica, se è una batteria, o energia meccanica, se è un alternatore o cose del genere, sfruttando qualche altra forma di energia questo mantiene la forza elettromotrice. Allora lì si chiama proprio differenza di potenziale e si misura in volt. Esiste una legge, sto andando molto veloce, sto facendo in tre minuti quello che abbiamo fatto l'altra sera in un'ora e qualcosa di lezione. Esiste una regola fondamentale che lega tra di loro la differenza di potenziale, la resistenza e l'intensità di corrente elettrica. Questa legge importantissima è la legge di Ohm. La legge di Ohm dice che praticamente la corrente che scorre in un circuito, quindi in un circuito dove c'è un generatore velocemente, dove c'è un generatore e una resistenza. Il generatore è simboleggiato così. Questo è un generatore di tensione continua, quindi il simbolo è più, la barra più lunga è più. E qui c'è una resistenza, un valore di resistenza, un componente fatto apposta che si chiama resistore, ma è un valore di resistenza, lo chiamiamo R1. L'intensità di corrente che scorre dentro questo circuito con questo generatore che mantiene è direttamente proporzionale alla tensione, quindi alla differenza di potenziale che si chiama anche tensione, è inversamente proporzionale alla resistenza. I uguale. Quindi l'intensità di corrente è praticamente il rapporto tra la differenza di potenziale che si misura in volt e la resistenza che si misura in ohm. Ohm ha questo simbolo qua. Questo era molto velocemente più o meno dove siamo arrivati l'altra volta. avevamo visto che c'erano tutta una situazione di reti complesse in cui si poneva il caso in cui due resistenze erano messe così, in questo caso si chiamava parallelo e c'è una formula che permette di calcolare quando queste due resistenze in parallelo sono due soltanto, c'era una formula che era praticamente R1 per R2 su R1 più R2 questo era il caso semplificato in cui erano soltanto due quando invece sono più di due la formula è un pochino più complessa perché è 1 su 1 su R1 più 1 su R2 più 1 su R con N dove N è il numero delle resistenze che sono messe in parallelo tra di loro. Questo era il caso in cui le resistenze erano messe in parallelo nel caso in cui invece le resistenze erano messe in quest'altro modo quindi erano messe in io lo so che adesso sto andando velocissimo però se io ripeto pari pari la stessa cosa che ho fatto la volta scorsa praticamente non andiamo avanti quindi stasera io sto facendo un riepilogo velocissimo praticamente soltanto per quelli che l'altra volta non c'erano tenete conto che la lezione 1 è registrata è disponibile su youtube è disponibile sulla pagina dei redematori di facebook è disponibile sul mio profilo facebook per cui voglio dire se ve la riascoltate se ve la riguardate probabilmente non serve neanche fare tanto riepilogo stasera questa situazione qui di due resistenze in serie è molto più semplice perché praticamente la resistenza somma quindi r1 questa sarà sempre r1 questa diventa r2 in questo caso la resistenza totale che gira qui dentro è la somma r1 più r2 quindi di conseguenza e questo è importante perché diventa importante capirlo senza stare a fare tanti conti io più resistenza aggiungo qui mantenendo costante la tensione quindi mantenendo costante la differenza di potenziale più resistenza aggiungo qui e che cosa succede alla corrente? diminuisce giustamente anzi dirò di più se aggiungo un valore uguale a r2 cioè r1 e r2 se hanno valore uguale la corrente e la tensione resta stabile e la corrente che cosa fa? si dimezza giustamente ok il concetto è chiaro eravamo praticamente arrivati a questo cioè a giocare con le serie e con i paralleli di resistenze avevamo anche fatto un caso in cui c'era un discorso così un punto intermedio tra due resistenze avevamo fatto un esempio pratico con un calcolo qui c'è una resistenza qui c'è un nodo quindi un nodo dove io posso prelevare una tensione e qui c'è un'altra resistenza vi ricordate questo? questo è molto importante avevamo stabilito che normalmente per convenzione il negativo del generatore è quello definito come ground o massa c'è questo simboletto qua e si chiama anche GND ground e tutte le tensioni normalmente vengono misurate su questo che è quasi sempre il polo negativo del generatore vengono riferite a questo quindi se qui il generatore genera 10 volt per esempio e quindi questo è lo 0 se vado a misurare se vado a misurare qui c'ho R1 e qui c'ho R2 che sono dello stesso valore se vado a misurare qui in mezzo rispetto al punto di riferimento quante volte avrò? 5 esatto e se questa qua diventa più piccola come valore di resistenza se questa diventa più piccola R piccola la tensione che cosa fa rispetto a prima? sale o scende? la tensione che vado a prelevare qui dentro? questa è diventata più piccola attenzione ragazzi ragionate per assurdo se questa resistenza fosse prossima a 0 questo nodo sarebbe prossimo a questa linea quindi sarebbe prossimo a 0 anche lui per contro se io questa qui la stacco del tutto quindi se ho una resistenza enorme di valore infinito questo qui questo qui quanto vale? se io qui ho una resistenza di valore infinito perché ho interrotto il circuito questo punto quanto vale? vale 10 volte perché non c'è più corrente quindi non c'è più nessuna caduta allora la legge di Ohm che cosa ci dice? che la tensione e la corrente sono legate tra di loro in una resistenza no? se io qui ho interrotto il circuito non c'è più corrente non c'è più corrente quindi questa resistenza ha come intensità di corrente 0 se io calcolo la V la legge di Ohm dice che V uguale a R per I V è uguale uguale a R per I ma se I è 0 che è il prodotto di questi due se uno di questi due fattori è 0 il risultato è 0 quindi voglio dire io qui posso mettere quante resistenze voglio ma se non ci scorre corrente ai due capi della resistenza ci sarà sempre 0 è chiaro questo concetto per contro se io invece qui metto una resistenza molto piccola molto piccola praticamente questo braccio e questo braccio sono sbilanciati l'avevamo fatto l'altro giorno nel conto ma sicuramente se questa resistenza questa è minore di questa la tensione sarà meno di 5 volt se invece questa è minore di questa la tensione sarà maggiore di 5 volt cioè più io tendo a tirare verso l'alto e più questo nodo intermedio va su se io per esempio qui metto un potenziometro che non è altro che una resistenza con un ponticello che si sposta lungo il percorso della barretta di grafite cioè io qui faccio una roba del genere e qui c'è un cursore anzi no così è più facile da capire questo ok questo affare qui si sposta qui in mezzo lungo la lunghezza del conduttore ovviamente siccome avevamo detto che la resistenza dipende anche dalla lunghezza del conduttore se questo si sposta qui dentro la resistenza cambia se io porto questo ponticello intermedio da questa parte qui ci saranno tutti i 10 volt se lo porto da quest'altra parte dipende dal rapporto tra la resistenza massima di questo potenziometro e questa qua sotto se per esempio io prendo un potenziometro da 10k faccio un caso pratico se io prendo un potenziometro da 10k qui sotto ci sono 10k kohm ok questo potenziometro è da 10k anche lui che cosa significa questo significa che se io lo apro tutto cioè nel senso che porto il cursore qua giù il circuito diventa equivalente ad avere una resistenza da 10k verso l'alto e una resistenza da 10k verso il basso quindi la tensione sarà sicuramente 5 volt perché è bilanciato ok se invece il cursore io comincio a spostarlo verso l'alto questo ramo della resistenza diventa sempre di meno sempre di meno sempre di meno fino ad arrivare ipoteticamente a zero se lo chiudo tutto quando l'avrò chiuso a zero e quindi questo braccio qui sarà come un filo nel senso che non ci saranno più resistenze in mezzo io qui non posso avere altro che tutti i 10 volt tutti i 10 volt è ovvio questa cosa? è chiaro questo concetto? per tutti? rispondetemi sì o no però? ok comunque ti rivedi il corso che abbiamo fatto l'altra volta no beh forse conviene perché adesso sto volutamente correndo tantissimo queste cose le abbiamo già viste con più calma l'altra volta ma sai sono già vabbè ancora non sono le nove per cui va bene così però voglio dire questa cosa qui si chiamava ed era il punto a cui avevamo lasciato prima adesso riprendo a spiegare con un po' di calma questa configurazione qui si chiamava partitore partitore di tensione perché partitore di tensione? perché tramite questi due questi due valori io posso in anticipo già determinare quella che sarà la tensione in uscita cioè non serve che io la misuri cioè io faccio un calcolo anche abbastanza semplice di quant'è la tensione di ingresso del rapporto tra queste due resistenze e già io so in anticipo senza doverla misurare che tensione otterrò qui il discorso è molto teorico perché poi dipende dal carico cioè nel senso che tutto questo discorso è bello e vero se io qui non ho praticamente carico nel momento in cui io questa tensione la voglio utilizzare e qui ci attacco una lampadina ovviamente casca il palco perché? perché la lampadina è essa stessa una resistenza la lampadina è essa stessa una resistenza per cui tutti questi calcoli che avevo fatto nel momento in cui attacco un carico questi mi sballano e qui si dice nel gergo normale si dice che questo punto questo nodo si siede si siede cioè nel senso che quando è sotto carico tutti questi discorsi che ho appena fatto non valgono più quindi nei calcoli va inclusa anche la resistenza del carico va inclusa anche quella ok? questo era più o meno dove siamo arrivati l'altra volta in 5 minuti adesso facciamo un po' un ultimo senno a quelle che sono le correnti continue e a quelle che sono le tensioni continue dopodiché passiamo alle alternate c'è una cosa che l'altra volta non avevamo detto sono due leggi di un signore questo sta filmando? si sta filmando ok io ho sempre paura che quella mi si blocca a metà si inceppa tutto e devo ricominciare da capo allora c'è un signore tedesco che ha vissuto nella seconda metà dell'ottocento che si chiamava così H H due volte H O F F io non ho capito perché i tedeschi mettono tante lettere che poi dopo quando parlano fanno wow e dentro c'è H C C H c'è una maria di questo comunque si chiamava così Kirchhoff con due H e due F questo signore aveva enunciato due principi importanti sembrano stupidi sembrano detti così sembrano quasi inutili invece poi risultano utili per esempio nel calcolo di certi circuiti ci sono due leggi di Kirchhoff una è la prima che si chiama la legge dei nodi la seconda si chiama la legge delle maglie allora vediamo velocemente che cosa dice la prima legge dei nodi che cos'è un nodo intanto un nodo è semplicemente una derivazione in cui da più parti arrivano arrivano correnti elettriche ok quindi mettiamo questa cosa qui a un certo punto poi io qua riparto e qua riparto qui metto una resistenza qui metto una resistenza ok qui ne metto un'altra qui ne metto un'altra e qui c'è un generatore ok un generatore che va bene diciamo un generatore e qua sotto c'è la massa che cosa dice la la prima legge di Kirchhoff dice che le correnti che entrano in un nodo sono diciamo la somma delle correnti che entrano in un nodo è uguale alla somma delle correnti che escono praticamente è un enunciato che esprime in qualche modo la conservazione della carica elettrica che cosa significa che se io so quanta corrente ci passa qui quanta corrente ci passa qui perché io sono andato a misurare la corrente totale che sta erogando questo generatore ok quindi so quant'è la corrente totale che sta erogando questo generatore e vado a misurare questa vado a misurare la corrente che passa in questa linea non serve che vado a misurare anche l'altra perché per il primo principio di Kirchhoff sicuramente l'altra corrente è quel tot che mi manca per arrivare a questa prodotta qui attenzione mentre la tensione attraverso le resistenze cade questo è un concetto molto importante mentre la tensione attraverso le resistenze cade e l'abbiamo visto l'abbiamo visto con i partitori di tensione abbiamo visto che la tensione del generatore ogni volta che attraverso una resistenza cade la corrente invece non è così la corrente è praticamente quello che passa il totale di tutte le correnti che passano qui dentro io me le ritrovo ripartite in vario modo qui dentro alla fine però la somma è uguale cioè nel senso che se io qui metto resistenze di valore diverso metto resistenze di valore diverso per esempio qui ne metto una piccola qui ne metto una grande sicuramente qui passeranno 3 ampere qui passerà un ampere perché la resistenza piccola tende a far passare più corrente quindi qui passeranno 3 ampere qui ne passa uno vado di qua misuro di qua e dico qui mi stanno passando 2 ampere quanti ampere passeranno in quest'altra allora se qui ne passano 3 e qui ne passa uno significa che questo generatore sta fornendo in totale una corrente di 4 ampere d'accordo io vado a misurare qui e dico ah qua ce ne passano 2 serve che misuro l'altra no perché perché di qua ne passeranno sicuramente altri due esatto cioè in pratica il primo principio di Kirchhoff dice questo che le correnti che entrano sono le stesse che escono sommate assieme quindi se io ne conosco una sicuramente l'altra riesco a dedurla dal fatto che la somma deve essere la stessa ok questo è il primo principio se ne può fare a meno cioè voglio dire non è che uno se non ci sono i principi di Kirchhoff tant'è vero che sul libro sono appena accennati non è che però all'esame ve lo potrebbero chiedere per lo meno che cosa dicono la prima legge e la seconda legge ve lo potrebbero chiedere allora questo per quanto riguarda la prima legge di Kirchhoff la seconda legge di Kirchhoff che è quella delle maglie dice una cosa che invece questa riguardava le correnti mentre invece la seconda legge di Kirchhoff riguarda le tensioni allora io il mio generatore fatto bene il mio generatore qui ho una resistenza 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 e qui ho una resistenza ok che cos'è una maglia? una maglia una maglia è praticamente tutto quello che viene racchiuso da componenti resistivi tenete conto che le due leggi di Kirchhoff riguardano tutte e due componenti resistivi sono tutte e due basate su circuiti che hanno resistenze quindi qui ancora non si parla di condensatori non si parla di induttanze non si parla di niente di tutto questo resistenze e basta questa è una maglia anche questa è una maglia che cosa dice la seconda legge di Kirchhoff? dice che all'interno di una maglia la somma algebrica delle tensioni è uguale a zero come si calcola la somma algebrica delle tensioni? si calcola praticamente arbitrariamente decidendo che uno va sempre per esempio in senso orario va per esempio in senso orario così e calcola la caduta delle tensioni dentro questa maglia quindi lui dice qui cade un tot qui cade un tot qui cade un tot ma questo tot che è caduto viene bilanciato e compensato da questa resistenza che seguendo il senso orario all'interno della maglia la troveremo di segno opposto cioè qui va dal più al meno qui va dal più al meno qui va dal più al meno qui va dal meno al più perché torna su la seconda legge di Kirchhoff dice che la somma algebrica delle tensioni dentro una maglia è uguale a zero e anche questo può aiutare a calcolare tensioni senza dover per forza questo qui è uno dei tanti metodi per calcolare le tensioni si può usare tranquillamente anche la legge di Ohm come abbiamo fatto l'altra volta vi ricordate che l'altra volta l'avevamo fatto semplicemente usando la legge di Ohm avevamo scomposto questo circuito in tre elementi cioè questo qui avevamo detto è una serie quindi buttiamo via questa serie e ce ne mettiamo una sola che è di valore complessivo ok e questo già si semplificava questo qui diventa un parallelo quindi pure questa la buttiamo via e ci mettiamo un valore di resistenza parallela equivalente a questo punto ho tre resistenze in serie e mi calcolo e mi calcolo è più semplice calcolarlo così che con Kirchhoff però sappiate che appunto le leggi di Kirchhoff anche se sono meno usate è possibile che all'esame ve le chiedano quindi ricordatevi la prima legge di Kirchhoff dice che le correnti entranti in un nodo la somma delle correnti entranti in un nodo è uguale alla somma delle correnti uscenti mentre invece la seconda legge di Kirchhoff dice che la somma algebrica delle tensioni all'interno di una maglia di resistenze è sempre uguale a zero ricordatevi questo e a questo punto io con le correnti continua mi fermerei qua e comincerei a fare un altro discorso completamente diverso e qui cominciamo un capitolo nuovo e a questo punto vado piano 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 e cerco di spiegare piano 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 chi è che sa fare un bel cerchio venga qua qualcuno che sa fare un bel cerchio non voglio fare una patata mi vergogno non so disegnare una cosa più possibile simile a un cerchio bravo ma io pure avevo pensato di portarmi un piatto da casa sì va bene ma questo va benissimo questo va benissimo questo va benissimo insomma si è mosso vabbè dai piuttosto che niente è che pesa è scivo laggiù però vabbè vabbè facciamo finita che è un cerchio dai ok grazie adesso in mezzo a questo bel cerchio in mezzo a questo bel cerchio ci mettiamo ok io qui ho una pallina che gira tipo quella che gira nella roulette non nella roulette nella roulette tipo la pallina che gira nella roulette ho una pallina che gira e questa pallina proietta un'ombra perché io qui ho una sorgente luminosa ho una sorgente luminosa che genera raggi paralleli raggi luminosi paralleli quindi quindi questa pallina che gira proietta la sua ombra sull'asse verticale se la pallina gira di modo uniforme io vedrò l'ombra della pallina che segue praticamente i movimenti del pendolo nel senso che fa così rallenta quasi si ferma si ferma inverte la marcia accelera 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 qui è il punto di massima velocità ricomincia ad accelerare arriva da quest'altra parte si ferma inverte la marcia ricomincia ad accelerare eccetera questo è il cosiddetto modo armonico il modo armonico è praticamente la proiezione di un oggetto che si muove di modo uniforme su una circonferenza la proiezione sul suo diametro ok in questo caso se io qua sul sul diametro non fosse una cosa fissa ma qua sotto avessi un nastro di carta che permette di tracciare questa ondulazione che va su che va giù che va su e che va giù avrei una roba del genere ok qui è praticamente quando è al massimo della velocità e quando è al centro poi quando va verso l'alto comincia a decelerare comincia a decelerare va dall'altra parte del cerchio ok e praticamente questi sono i due punti in cui la velocità cioè in cui il senso di marcia si inverte di questa pallina è chiaro questo concetto? adesso se vi ricordate un po' di trigonometria che probabilmente avete fatto a scuola che cos'è che cambia nel tempo qui è vero che questa gira e gira con movimento uniforme ma quello che cambia essenzialmente è l'angolo che la pallina percorre rispetto all'asse orizzontale per esempio o anche all'asse verticale che cos'è questa cosa qua in trigonometria quando io esprimo la proiezione della pallina sul sul diametro del cerchio quindi a seconda dell'angolo in cui si trova io proietto la pallina qui che cos'è questo segmento questo segmento qui viene chiamato seno dell'angolo sin sin di alfa di alfa ok praticamente che cos'è il seno il seno non è altro che l'ombra che la pallina che gira nel cerchio proietta su questo asse quindi il seno va nel cerchio ideale della trigonometria il cerchio ha diametro 2 nel senso che può andare il valore massimo è più 1 il valore minimo è meno 1 ok questo è trigonometria spicciola del primo liceo e quindi quando la pallina sarà a 90 gradi che sarà quassù si dice che il seno dell'angolo che ha fatto la pallina quando è quassù il seno di 90 gradi è 1 il seno di 0 è 0 perché l'ombra è nel centro il seno di 180 gradi è 0 di nuovo il seno di 270 gradi è meno 1 ok quindi riportando nel tempo questo movimento cioè il giramento della pallina nel cerchio questa curva qua è la funzione y uguale seno di x y uguale seno di x è quella che si chiama sinusoide ok quindi la sinusoide non è altro che la proiezione di un oggetto che si muove con moto armonico quindi con moto uniforme dentro una circonferenza e proietta la sua ombra sul diametro verticale quindi è la funzione dove y è uguale seno di x quindi x è il tempo e y è il seno che normalmente nel cerchio trigonometrico ideale va da meno 1 a più 1 quindi questo qui sarà valore meno 1 questo qui sarà valore più 1 questo per quanto riguarda lo studio teorico della sinusoide vediamo che caratteristiche ha questa curva allora questa curva intanto possiamo vedere che se abbiamo detto che x è il tempo possiamo dire che tra questo punto in cui la curva nasce e questo punto in cui la curva si ripete quindi qui ha fatto un giro completo la pallina d'accordo? qui ne ricomincia un altro tra questo punto e questo punto è passato un certo tempo quanto è lungo questo tempo dipende da quanto veloce va la pallina però potremmo dire che questo tempo che è passato tra la nascita di questo giro e la nascita del giro successivo si chiama chi lo sa? periodo ok? il periodo non è altro che il tempo che passa tra l'inizio di un ciclo e l'inizio del ciclo successivo quindi come sarà misurato il periodo ci sarà un'unità di misura di tempo se il periodo è un tempo ci sarà un'unità di misura del tempo quindi può essere misurato in secondi in millisecondi in nanosecondi comunque con una grandezza che riguarda il tempo quindi abbiamo deciso che il periodo è una misura del tempo adesso io dico la pallina la mando più veloce la pallina la mando più veloce quindi nello stesso periodo qua ne faccio faccio un altro asse faccio ok? la mando più veloce ovviamente qui il periodo è più piccolo però che cos'è che è aumentato? è aumentato il numero di giri al secondo per dire che cos'è questa grandezza che mi dice quanti giri ho fatto in un secondo? la frequenza esatto quindi mentre il periodo è il tempo che ci mette a fare un ciclo la frequenza è il numero di cicli nell'unità di tempo da che cosa sono legate queste due cose? dal rapporto 1 su x cioè la frequenza è l'inverso del periodo il periodo è l'inverso della frequenza ok? esiste una unità di misura per la frequenza che determina il numero di cicli in un secondo un'unità di misura che determina il numero di cicli in un secondo si chiama hertz quindi un hertz è uguale a un ciclo su un secondo adesso voi mi dovete dire con il solito giochetto della proporzionalità diretta e della proporzionalità inversa dove sta il numero di giri e dove sta il tempo sopra o sotto allora se l'hertz è direttamente proporzionale alla velocità con cui fa la pallina gira sotto il tempo quindi tu dici sotto il tempo e qua sopra il numero di giri giusto giusto perché se la pallina fa più giri gli hertz aumentano se la pallina fa meno giri gli hertz diminuiscono quindi è direttamente proporzionale al tipicamente un hertz se la pallina fa dieci giri al secondo si può dire che fa dieci hertz la frequenza ok quindi che cosa abbiamo già trovato di questa famosa il numero dei cicli attenzione non dire il numero dei periodi perché il periodo è il tempo che ci mette a fare un giro quindi il numero dei cicli infatti si dice megahertz cioè per esempio per dire kilohertz un modo anche esatto per dire kilohertz è dire chilo cicli al secondo chilo cicli ok e il fatto che si dica cicli si capisce da questo cioè nel senso che la sinusoide è derivata diretta cioè è la derivazione diretta di questo affare che gira così perché questo affare che gira così viene misurato come il seno dell'angolo che varia cresce poi scende poi calava di sotto poi torna su e fa questo praticamente che è un po' il movimento pendolare è la stessa cosa il pendolo fa la stessa cosa quindi abbiamo già stabilito due grandezze importanti di questa di questa sinusoide famosa abbiamo stabilito che esiste un periodo esiste una frequenza il periodo è normalmente l'inverso della frequenza però normalmente come hertz si intende il numero dei cicli nell'unità di tempo quindi secondo la nomenclatura che avevamo visto l'altra volta si parlerà di kilocicli megacicli oppure kilohertz megahertz gigahertz e avanti così a seconda delle varie potenze ingegneristiche delle potenze di 10 alla 3 10 alla 6 10 alla 9 10 alla 12 e avanti l'avevamo visto l'altra volta adesso oltre a queste cose qui ci sono altre caratteristiche della sinusoide per esempio io ne ho due una è così e una una è praticamente con la stessa frequenza ma è così adesso a parte il modo da cani con cui disegno io però date per assunto che queste due abbiano la stessa lunghezza come periodo quindi hanno la stessa frequenza nell'unità di tempo però questa qua è più larga perché mentre nel cerchio trigonometrico si dà per assunto che comunque la sinusoide varia da più 1 a meno 1 nella realtà noi con la sinusoide stiamo esprimendo delle grandezze elettriche quindi queste grandezze elettriche non vanno certo da più 1 a meno 1 hanno dei valori che dipendono da cosa stiamo facendo noi quindi noi potremmo avere la stessa identica forma d'onda con la stessa frequenza ma diversa ampiezza quindi l'ampiezza determina quanto è nella pratica nella realtà l'escursione tra il minimo e il massimo ok? quindi possa avere forme d'onda perfettamente sinusoidali con la stessa identica forma quindi pure delle sinusoidi pure perché poi vediamo che esistono anche delle sinusoidi che non sono pure però possono avere differente ampiezza e a questo proposito c'è un bel discorso da fare attenzione prendiamo un solo periodo anzi ne prendiamo due stiamo misurando delle grandezze elettriche quindi se stiamo misurando delle grandezze elettriche io mi pongo un problema questa grandezza elettrica se la dovessi misurare che cosa misuro? potrei misurare per esempio il valore massimo questo qua su adesso io l'ho disegnata male ma tenete conto che questa linea è al centro fate finta che sia al centro potrei misurare questo valore qua su che in genere è lo stesso valore che c'è qua giù di segno opposto però che me ne faccio? perché dico che me ne faccio? perché mentre abbiamo visto prima che con le correnti continue io ho una forma di energia costante nel tempo con la quale io posso fare dei conti per esempio che ne so posso scaldarci una resistenza posso fare una stufetta elettrica o il ferro da stiro è una forma di energia costante prima abbiamo parlato fino alla lezione scorsa abbiamo parlato di tensioni continue e correnti continue e lì era facile il gioco perché lì avevo una corrente attraverso una resistenza che era costante avevo una potenza erogata in watt che era costante in qualunque momento io sapevo tutte queste cose quindi potevo anche tranquillamente calcolarmi quello che poteva essere il rendimento in termini di riscaldamento di questo componente qui non è così qui se voi guardate il valore non è mai lo stesso è vero che ritorna ogni periodo ritorna ogni periodo lo stesso valore però se io dovessi fare una misura istantanea di questa cosa qui non so dove farla a priori perché non non c'è un valore fisso tenete conto che la tensione alternata che gira nell'Enel per dire gira a 50 periodi cicli al secondo quindi 50 Hz e io se dovessi fare affidamento su una misura presa in un istante X la prendo in un istante X è qua poi dopo la prendo in un altro istante è qua vicino a zero qui potrebbe essere addirittura proprio zero cioè che sta facendo il famoso zero crossing cioè che sta proprio attraversando il punto zero quindi non saprei come prendere questa cosa allora hanno stabilito tutta una serie di caratteristiche che riguardano questa forma d'onda una è la Vm con la M maiuscola che è la tensione massima la tensione massima si prende una semi-onda soltanto questa positiva per esempio e si misura la tensione che c'è qua su bello sì però che me ne faccio la tensione massima viene raggiunta soltanto per un piccolissimo istante perché dopo torna subito giù quindi non è quella tensione lì che io posso prendere come metro di misura per sapere quanto io posso spremere energia o comunque quanto posso utilizzare questa questa diciamo fenomeno elettrico alternato che cosa posso fare posso prendere un valore qui in mezzo che è un valore medio e lo chiamano V con la M minuscola il valore medio già si avvicina un po' più alla realtà ma non è quello che veramente mi serve alla fine hanno trovato allora il valore medio comunque è praticamente la media è praticamente equivalente come valore al rettangolo che si ha facendo la media di tutti i valori istantanei se uno fa la media di tutti i valori istantanei in un periodo ottiene un valore che è diventa all'altezza di questo rettangolo praticamente è come se trasformassi un semiperiodo in una cosa rettangolare e quello già mi fa avvicinare un po' di più alla realtà però non è ancora quello che mi serve ce n'è uno che viene utilizzato ormai universalmente che invece rispecchia veramente quanto questa questa forma d'onda così strana in realtà io posso convertirla in qualche cosa di efficace tant'è vero che si chiama proprio l'italiano si chiama valore efficace che cos'è il valore efficace il valore efficace è quel valore che mi permetterebbe posto il valore efficace è quel valore che mi permetterebbe di spremere da un da un elemento riscaldante la stessa quantità di energia con la corrente continua cioè nel senso che io dico mi pongo il problema da questa forma d'onda per avere lo stesso effetto riscaldante di una corrispondente corrente continua quanti volt dovrei dare se questa qui è 100 volt valore massimo 100 volt valore massimo e io voglio ottenere voglio sapere quanto mi scalda una resistenza alimentata con questa corrente a che tensione continua corrisponderebbe per produrre lo stesso riscaldamento me la posso calcolare e me la posso calcolare sapendo che il valore efficace che si chiama in inglese root medium square rms praticamente è la radice quadrata della media di tutti i quadrati che vengono costruiti qua sopra voi questo non necessariamente lo dovete sapere però in inglese significa root mean square che significa radice della media dei quadrati quindi valore efficace e valore rms è la stessa cosa in che rapporto stanno tutti questi il valore rms sta al valore diciamo di picco quindi il valore massimo per l'inverso della radice di 2 che è circa 0.707 in altre parole se io ho il valore efficace e voglio sapere il valore di picco moltiplico il valore efficace per 1.41 che è la radice di 2 se invece come più comunemente succede voglio sapere il contrario cioè dal valore di picco voglio sapere quant'è il valore rms perché è quello che mi interessa cioè mi interessa questa tensione che ha 10 volt se fosse continua quanto mi farebbe accendere questa lampadina e questa è la domanda che mi devo fare a che tensione a che tensione corrisponderebbe se fosse continua quello lì è il valore rms quindi il valore efficace e questo me lo ottengo prendendo il valore di picco e facendolo moltiplicandolo per 1 diviso 1.41 1 diviso 1.41 che è la radice di 2 viene 0.707 e ciappelo da menudo che sapete tutti i decimali che il valore massimo per 0 che è 1.707 esce il valore efficace esatto esatto sì sì mentre invece se fai il contrario cioè nel senso che se tu usai il valore efficace per esempio la tensione di rete che è a 220 volt rms se tu la misuri con l'oscilloscopio di picco c'è circa 330 volt e se tu ci fai caso 220 per 1.41 fa circa proprio 330 ma sempre o un picco solo? no no di picco lo sto parlando del valore picco picco il valore picco picco è il doppio sì il valore picco picco che viene proprio chiamato V PEP è questo tra qua e qua io invece sto parlando di questo tra qua e qua ok perché poi alla fine la corrente alternata diciamo viene comunque raddrizzata e questo poi lo vedremo magari nelle lezioni successive cioè non viene quasi mai utilizzata in questa forma se non per farla passare nei trasformatori i trasformatori li vedremo bene quando cominceremo a fare l'elettromagnetismo però tenete conto che il motivo per cui di gran lunga si utilizza la corrente alternata è proprio per questa sua capacità di passare attraverso i trasformatori e i trasformatori riescono a modificare le sue caratteristiche principali per esempio il rapporto tra tensione e corrente lo vedremo fra pochissimo e questo ha permesso nella storia una grande evoluzione cioè se Tesla non avesse mai pensato il famoso Nikola Tesla se non avesse mai pensato alla corrente alternata il buon Thomas Alva Edison in America non poteva fare altro che disseminare tutti gli Stati Uniti di centrali perché più lontano di 10 km non riusciva ad andare cioè lui aveva cominciato a fare una rete elettrica per alimentare le lampadine a corrente continua però la corrente continua così come era più di una decina di chilometri non riusciva a trasportarla mentre invece convertirla in corrente alternata facendola passare nelle cabine di trasformazione convertirla in altissima tensione e poi vedremo perché qual è il vantaggio di convertirla in altissima tensione ti permette di trasportarla a grandissime distanze una volta diciamo una volta percorsi a queste grandissime distanze fai il processo inverso nelle cabine di distribuzione la riabbassi e non hai perso quasi niente rispetto a quello che invece avresti perso se il trasporto fosse fatto a corrente continua questo è il grande vantaggio della corrente alternata per quanto riguarda la distribuzione dell'energia però a noi più che altro adesso la corrente alternata ci interesserà perché le stesse onde radio sono generate da correnti alternate a frequenze molto più alte non certo a 50 Hz come l'Enel però di fatto quello che i trasmettitori emettono dall'uscita sono tensioni e quindi di conseguenza correnti alternate su carichi che se sono ben adattati potrebbero assomigliare a resistenze questo l'abbiamo già detto l'altra volta cioè un'antenna ben accordata è molto simile a una resistenza solo che invece di scaldare disperde energia nello spazio in un'altra forma va bene quindi riepilogando che cosa abbiamo visto di questa sinusoide abbiamo visto il periodo la frequenza l'ampiezza il valore medio il valore di picco e il valore efficace è chiaro fino qua? è tutto chiaro fino qua? vi seguite? ok adesso faccio una cosa che mi risulta facile perché io a fare i disegni fatti bene non sono capace ma i disegni fatti male mi vengono spontanei e faccio uno sgorbio di questo tipo ok questa qui è comunque una forma d'onda periodica perché comunque ha un certo una certa periodicità cioè la stessa cosa si ripete ogni tot tempo però come voi ben potete vedere il profilo non è tondeggiante c'ha delle altre cose in mezzo allora una cosa importante oltre a tutto quello che abbiamo visto prima è la forma d'onda la forma d'onda che normalmente si tende a rendere più pura possibile cioè nel senso che la tendenza è quella di generare una sinusoidia il più possibile pulita perché perché tutte quelle che si sovrappongono all'onda fondamentale quella che si chiama fondamentale cioè quella più bassa di tutte quasi sempre sono un fattore di disturbo tranne che in musica cioè la musica quando parlano di onde acustiche queste qui sono le caratteristiche che permettono di distinguere un violino da un pianoforte cioè il violino e il pianoforte che fanno la stessa nota tu però riconosci che è un violino e non è un pianoforte perché quello che varia di fatto è la forma d'onda che il nostro cervello identifica subito come uno strumento diverso anche se fanno la stessa identica nota se tutti e due gli strumenti generassero una sinusoide pura farebbero esattamente non solo la stessa nota ma anche lo stesso suono e non ci sarebbe modo di distinguerli normalmente in livello di talonica questo è un fattore di disturbo perché è un fattore di disturbo dipende dal tipo di relazione aritmetica che c'è tra la fondamentale che è questa grande e queste due piccolette che stanno qua dentro se quelle piccolette che stanno lì dentro sono in un rapporto di multipli quindi per due per tre per quattro per cinque vengono definite armoniche e normalmente non sono una bella cosa le armoniche perché nel caso di un'emissione radio per esempio le armoniche potrebbero andare a invadere delle bande che non sono di competenza e quindi normalmente si cerca di sopprimere le armoniche si parla di seconda armonica che è il doppio della frequenza base terza armonica che è il triplo della frequenza base quarta armonica e così via peggio ancora se non c'è nessuna relazione aritmetica tra la frequenza fondamentale e queste qui dentro allora in questo caso si parla di spurie quindi praticamente che cosa sono le armoniche e le spurie sono emissioni che vengono generate assieme alla sinusoide di base che quindi in qualche modo è sporca però se è sporca con delle frequenze ben determinate che sono multipli della frequenza base sono armoniche se sono invece frequenze che non hanno una relazione aritmetica precisa con la frequenza fondamentale si chiamano spurie ok adesso esiste ve lo dico per cultura generale probabilmente sul libro non c'è e non ve lo chiederanno mai però ve lo dico per cultura generale qualunque tipo di fenomeno periodico per quanto sporco sia c'è un teorema che dice che qualunque può essere riportato riferito a una scomposizione di sinusoidi cioè nel senso che per quanto può essere uno sgorbio questa roba qui esiste un processo matematico tale che permette di risalire a qual è la frequenza fondamentale e renderla pura isolare tutte le componenti che stanno qui dentro e renderle pure come sinusoidi pure e si chiama l'analisi di Fourier Fourier scritto francese scritto così Fourier ok quindi praticamente se c'è un segnale sporco quanto volete e che poi è quello che normalmente fanno i processori i DSP cioè i processori velocissimi che sono negli analizzatori di spettro quando gli arriva un cesso di segnale tutto sporco loro lo devono scomporre in barre quello che loro fanno in tempo reale fanno l'analisi di Fourier ok questo è quello che loro normalmente fanno per lo meno gli analizzatori di spettro digitali che ci sono adesso adesso questa cultura generale domande fino qua allora che differenza c'è tra un'armonica e una spuria è molto semplice un'armonica è semplicemente un segnale che si somma alla frequenza base che però è multiplo della frequenza base quindi è il doppio il triplo il quadruplo e così via mentre invece una spuria è una cosa che non ha una relazione precisa ed è più difficile da gestire perché mentre un'armonica la gestisci mettendo che ne so per esempio nel caso della radiotecnica metti i filtri a cavità cioè voglio dire ci sono dei sistemi per gestire abbastanza facilmente le armoniche le spurie sono bastarde perché in genere non sono neanche costanti cioè possono divendere da una marea di variabili e tu non sai a priori dove casca la spuria non lo sai perché non c'è una legge matematica che te lo dice questa è un po' la differenza di base adesso facciamo un giochetto io ho una strada una strada e ho delle macchinine ho una strada e ho delle macchinine delle macchinine che vanno a un metro al secondo io lancio una macchinina questa macchinina parte in questo senso e va a un metro al secondo dopo un secondo lancio un'altra macchinina quindi la prima macchinina che ho lanciato sarà qui ne lancio un'altra qui sta pure parte tutte e due si muovono vanno a un metro al secondo ne lancio un'altra dopo un po' la strada sarà piena di macchinine se fanno un metro al secondo e io ne lancio una al secondo nota bene le macchinine vanno a una velocità di un metro al secondo e io ne lancio una al secondo quanto stanno distanti tra di loro queste macchine? a un metro e se ne lanciassi due al secondo? no spiega eh? scusa hai detto non ho capito se ne lanciassi due al secondo? due macchinine sì però due macchinine che vanno a un metro al secondo ma ne lancio due al secondo quanto stanno distanti tra di loro? 50 centimetri è abbastanza intuitivo questa cosa quindi che cosa posso dire io? che c'è questa distanza che posso chiamare lunghezza d'onda ok? questa distanza che posso chiamare lunghezza d'onda dipende da che cosa? dipende dalla velocità con cui le macchinine si allontanano ma dipende anche da quante ne butto fuori è chiaro questo concetto? quindi più io ne butto fuori ogni secondo e più loro saranno vicine mentre invece più vanno veloci e più saranno lontane quindi se io dovessi fare la solita il solito giochetto della linea di frazione questa cosa che chiamo lunghezza d'onda lambda sarà direttamente proporzionale o inversamente proporzionale alla velocità con cui queste si allontanano cioè più si allontanano veloci e più lambda che cosa fa? aumenta giustamente quindi la velocità sta qua sopra perché è direttamente proporzionale e invece il fatto che io ne lancio uno al secondo oppure due al secondo o tre al secondo a che cosa lo posso paragonare? alla frequenza bravi e abbiamo trovato un'altra cosa che cos'è la lunghezza d'onda? la lunghezza d'onda è un qualche cosa che viene determinato da la velocità di allontanamento ed è direttamente proporzionale alla velocità di allontanamento ed è inversamente proporzionale alla frequenza più alta la frequenza e più la lunghezza la distanza tra queste macchine diminuisce perché facciamo questo discorso facciamo questo discorso perché tutte le correnti alternate non solo quelle ad alta frequenza ma anche quelle a bassa frequenza qualunque essa sia producono delle perturbazioni nello spazio circostante e in particolare producono delle perturbazioni nel campo elettromagnetico allora prima dobbiamo vedere che cos'è un'onda un'onda è il propagarsi di una perturbazione attenzione che l'onda non significa che il materiale si sposta e se ne va non c'è nessun materiale che si sposta e se ne va ammettiamo che un materiale è fatto da tante particelle ok tante particelle atomi molecole quello che volete ma anche il vuoto allora il vuoto è affascinante perché la fisica non sa che cos'è cioè nel senso che la fisica sa conosce ormai tutti gli effetti del campo ma non sa che cos'è il campo cioè noi non lo sappiamo che cos'è il campo cioè come fa l'energia a trasferirsi nel vuoto assoluto e che cosa c'è in quel vuoto assoluto che la trasporta la fisica non lo sa conosce tutti gli effetti del campo sia elettrico sia magnetico sia gravitazionale ma non sa che cos'è il campo in sé per esempio la gravità non si sa bene cosa sia e questa è una cosa abbastanza affascinante perché lì praticamente è dove sconfina la scienza con la filosofia la teologia e tutte queste cose qua però vabbè a parte questo discorso un'onda che cos'è è il propagarsi di una perturbazione di un mezzo in altre parole se io questa particella la spingo in su un attimo questa particella viene spinta in su e subito dopo tende a tornare dove stava però il suo movimento di spinta in su perturba questa quindi mentre questa è tornata a posto questa qui ha dato una spinta in su dando una spinta in su a questa perturbo questa questa torna a posto quindi che cosa succede che la perturbazione di questo mezzo si sposta e si allontana dall'origine che l'ha generata non si sposta il mezzo in realtà il mezzo fa un saltino come quando butti un sasso nell'acqua cioè non è che l'acqua si sposta l'acqua fa così quel fatto di aver fatto così eccita l'acqua che è un po' più lontano che a sua volta fa così però fondamentalmente l'acqua resta dove è solo che voi vedrete una onda di propagazione che si allarga dal punto in cui il sasso è caduto succede esattamente la stessa cosa succede esattamente la stessa cosa ogni volta che c'è un circuito che viene percorso da correnti o tensioni alternate ok quindi noi parliamo di questa cosa perché qualunque tipo di fenomeno alternato che comporta passaggio di elettroni alternati nello spazio provoca una perturbazione a che velocità si allontana questa perturbazione del materiale tenendo conto che la luce è essa stessa una forma di energia elettromagnetica perché la luce è energia elettromagnetica che se ne dica come le onde radio né più né meno è solo più alta la frequenza molto più alta la frequenza ma è della stessa pasta è della stessa natura la luce viaggia a 300 circa mila chilometri chilometri io quando parlo non so più scrivere chilometri al secondo ok 300 mila chilometri al secondo quindi 300 milioni di metri al secondo quindi come si calcola nel caso specifico delle onde radio o comunque di tutto ciò che è elettromagnetico la velocità di propagazione si calcola facendo 300 milioni 300 300 milioni diviso questo i metri ovviamente no metri diviso hertz hertz quindi qua sono metri diviso hertz 150 per dire che sono 150 milioni di cicli al secondo basta fare 300 milioni di metri diviso 150 milioni di cicli al secondo e viene fuori 2 metri ok quindi che cosa abbiamo imparato da tutta questa pappardella abbiamo imparato che le correnti alternate come caratteristiche hanno un periodo una frequenza un'ampiezza un valore massimo un valore medio un valore efficace una forma d'onda la eventuale presenza di armoniche la eventuale presenza di spurie ma di tutto questo una delle cose più importanti è la lunghezza d'onda che dipende appunto dalla velocità di propagazione diviso la frequenza ok 150 milioni di hertz 150 milioni di hertz 300 milioni di metri diviso 150 milioni di hertz fa 2 metri infatti normalmente la banda 144 dei radiarmatori si dice andiamo in 2 metri e 2 metri un po' perché viene un po' più di 2 metri però è meno di 3 sicuramente eh sì infatti 430 sono 70 centimetri un po' meno di un metro in 70 centimetri sì 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 ok ecco tenete conto che a questo punto le bande radio vanno dalle onde chilometriche che sono praticamente decine di kilohertz alle onde millimetriche che sono decine di gigahertz e dopodiché comincia una cosa un po' diversa dopodiché cominciano i raggi beh le varie suddivisioni sono onde lunghissime onde lunghe onde medie onde corte onde ultracorte poi ci sono le varie VHF Very High Frequency poi ci sono le Ultra High Frequency poi ci sono le SHF Super High Frequency dopo cominciano le onde millimetriche e dopo le onde millimetriche si entra nel campo dell'ottica quindi si entra nel campo dei raggi infrarossi si entra nel campo della luce visibile che è molto stretta in realtà la luce visibile va dai 300 ai 600 nanometri quindi è una l'occhio umano vede una banda di frequenza molto piccola in tutto lo spettro enorme che c'è al di sotto dei 300 nanometri cominciano i raggi ultravioletti quindi cominciano gli ultravioletti A gli ultravioletti B gli ultravioletti C poi ci sono i raggi X e poi ci sono i raggi gamma che attualmente sono il fenomeno diciamo ondulatorio più veloce in assoluto quindi le onde più corte in assoluto che si conoscono nell'universo cioè nel senso che le varie supernova le stelle quando esplodono o cose del genere lo stesso sole nel suo nucleo emette una grande quantità di raggi gamma che fortunatamente vengono poi rallentati da tutta la strada che debbono fare per arrivare sulla corona solare diventano luce visibile però le stelle al loro interno emettono comunque una certa quantità di raggi gamma noi siamo protetti perché sulla terra siamo anche schermati dallo strato di ozono per quanto riguarda diciamo le radiazioni per quanto riguarda invece le particelle ionizzate siamo schermati dal campo magnetico siamo abbastanza ben protetti nella terra perché tra il campo magnetico e lo strato di ozono ci schermano da tutta la cacca che il sole butta fuori cosa che purtroppo non c'è più se tu vai nello spazio e quindi devi proteggerti in altro modo va bene quindi abbiamo visto anche queste belle cose qui sono le 10 meno 5 è un'ora volete che ci fermiamo qui o andiamo avanti io per quanto riguarda per adesso sulle correnti alternate magari fatemi qualche domanda non so c'è qualche passaggio che volete ampliare? allora l'onda è il propagarsi di una perturbazione in un mezzo tieni conto che le onde onde acustiche per esempio che sono in qualche modo paragonabili alle onde radio perché sono sferiche cioè contrariamente all'onda piana che c'è sul lago quando butti il sasso che è un'onda di superficie le onde acustiche per esempio sono onde sferiche che si propagano in maniera isotropica noi un giorno vedremo anche che cos'è un'antenna isotropica cioè un'antenna che trasmette energia in tutti in tutti i punti attorno a sé secondo un profilo sferico le onde acustiche sono fatte così cioè nel senso che se tu non usi un dispositivo apposta che concentra il suono in una direzione quando tu metti la voce parlando o facendo battendo così praticamente non fai altro che perturbare l'aria che è subito nelle vicinanze le molecole d'aria che sono lì nelle vicinanze a loro volta trasmettono la perturbazione a quelle vicine e il suono si allontana in questo caso molto più lentamente delle onde radio nell'aria il suono si allontana a una velocità di 330 metri al secondo quando si dice che un aereoplano è supersonico significa che lui va a una velocità maggiore di 330 metri al secondo il famoso Mach 1 è praticamente 330 metri al secondo e quello causa un fenomeno molto simpatico che adesso non si sente più perché gli aeroplani sono obbligati a volare a un'altitudine tale e per cui non lo senti più ma una volta mi ricordo quando eravamo piccoli ogni tanto si sentiva un gran botto ve lo ricordate il botto supersonico degli aeroplani e quello perché secondo voi ce l'avete mai pensato il motivo del botto supersonico tu lo sai e spiegalo praticamente tu quando hai un'onda sonora quella si espande in modo sferico esatto però se io muovo un oggetto in avanti dietro le onde si allargeranno per l'effetto della frequenza davanti no si schiaccerà si ingruma esatto si schiaccerà quindi andiamo come delle onde sempre più vicine no nell'espansione del tempo quindi se io riesco ad andare così veloce che queste onde non si espandono più rimangono ferme lì quindi tu crei tipo una barriera di concentrato di rumore eh si e quella è la barriera del suono cioè se l'aeroplano viene quando tu arrivi alla velocità Mach 1 normalmente le onde si allontanano da te ma se tu sei più veloce di loro loro non ce la fanno ad allontanarsi da te te li porti tutte quante sul muso davanti quando l'aereo ti passa sopra ti passa sopra con questo muro di pressione che gli si accumula tutto davanti e senti una gran botta dopodiché una volta che ha superato ha superato il tuo punto dopo lo senti il motore dell'aereo dopo perché lui si sta allontanando anzi dopo lì subentra un altro effetto importante che c'è anche nelle onde radio il famoso effetto Doppler che cos'è l'effetto Doppler l'effetto Doppler è un fenomeno per cui se la sorgente del fenomeno ondoso la sorgente del fenomeno ondoso ti si sta avvicinando praticamente succede un po' quello che diceva lui cioè nel senso che le onde si allontanano dall'oggetto che le produce però lui sta venendo verso le idee per cui in qualche modo si comprimono e tu ascolti nel caso del suono l'ascolti come è una frequenza più alta è il classico è il classico rumore dell'autodromo di Monza ecco quello lì quello è l'effetto Doppler finché si avvicina lo senti molto alto dopo quando si allontano lo senti molto basso o il caso della sirena bitonale della croce rossa no? eh sì la croce rossa che vi viene incontro il suono è molto più alto acuto quando in un'unica sembra che il tono sia più alto sì sì no ma sul tetto della croce rossa il bitonale suona sempre quella frequenza eh sì beh ma è il classico anche del fischio del treno ti passa il treno vicino lo senti no? quello è abbastanza classico senti due note perché nessuna delle due è quella vera in realtà quella vera sarebbe quella se lui fosse fermo ma in realtà siccome si sta avvicinando verso di te la frequenza la vedi più alta e se si sta allontanando la vedi più bassa questa tensione che è importante anche per le onde radio perché le onde radio di una sorgente che si avvicina velocemente soprattutto se le bande non sono molto alte potrebbe risultare come un leggero shift di frequenza in più o in meno a seconda che lui si sta avvicinando allontanando tenete conto che questa cosa qua per esempio ci ha permesso di scoprire una cosa importantissima in astronomia ci ha permesso di scoprire che l'universo si sta espandendo con velocità uniformemente accelerata e è stato scoperto proprio grazie all'effetto Doppler perché perché siccome la luce anche lei è energia elettromagnetica e anche lei è soggetta alle stesse leggi agli stessi fenomeni delle onde radio le galassie che si allontanano hanno una luce che è tutta deviata verso il rosso le galassie che si avvicinano hanno una luce tutta deviata verso il blu perché il rosso è una frequenza più bassa quindi l'effetto Doppler praticamente ti fa vedere il cambio del colore della radiazione che emettono e questo ci ha permesso di scoprire che l'universo si sta espandendo e si sta espandendo in maniera sempre più veloce questa è un'altra cosa una chicca che però magari è bene sapere per esempio l'effetto Doppler viene usato anche tantissimo in medicina quello che normalmente chiamano ecodoppler è praticamente un esame che permette di seguire il flusso sanguigno proprio nel momento in cui il sangue passa perché è un dispositivo ecografico che misura la deviazione di frequenza del sangue che però si sta muovendo se il sangue fosse fermo quel fenomeno non ci sarebbe Scusa poi tu prima hai detto parlato del vuoto sì cioè in pratica ancora non hanno scoperto come fanno qual è il veicolo che trasporta gli uomini sì ancora di più cioè la fisica non sa che cos'è il campo non sa che cos'è conosce i suoi effetti ma non sa che cos'è cioè il fatto che noi diciamo che lì è vuoto è perché non abbiamo misurato un qualche cosa che abbia massa però l'energia viene trasportata nel vuoto quindi voglio dire un qualche cosa che sfugge alla nostra comprensione c'è quello che una volta chiamavano l'etere io ho mandato nell'etere ecco che è non si sa la fisica ancora non lo sa che cos'è sa come si comporta l'abbiamo studiato prevediamo i fenomeni che accadono però non lo sappiamo come non sappiamo bene che cosa sia la gravità ci viviamo tutti i giorni ci conviviamo da sempre ormai non ci fa ovviamente né paura né stupore né curiosità però non si sa che cos'è la gravità come fanno due due corpi celesti così lontani a influenzarsi uno con l'altro sai perché tutto nell'universo è in orbita no? cioè perché i pianeti girano attorno alle stelle le galassie girano attorno cioè perché tutto sommato sono in movimento non hanno attrito perché non c'è niente che li ferma e se loro dovessero seguire la loro natura la loro massa inerziale andrebbero via per la tangente qualunque corpo celeste andrebbe via dritto per la tangente in effetti perché gira attorno a un altro perché la gravità praticamente agisce come uno spago con un sasso cioè nel senso che lì le due forze la forza centrifuga che lo porterebbe ad andarsene verso la tangente e la forza centripeta invece che lo tiene vincolato dalla gravità di questo oggetto più grande di lui fa sì che alla fine quest'altro non può fare altro che girargli attorno lo stesso motivo per cui gli elettroni girano attorno ai nuclei per cui la luna gira attorno alla terra per cui la terra gira attorno al sole per cui il sole gira dentro la galassia attorno a chissà che cos'altro cioè è tutto che funziona così però che cosa c'è sotto che tiene insieme tutta sta roba la fisica ancora non l'ha capito e questa è bellissima sta cosa vogliamo qui per stasera che dite sono le 22.05 abbiamo cominciato a meno un quarto meno un quarto dai poi se no a finire che l'attenzione cala tenete conto che la prossima volta faremo ancora un po' di roba sulle correnti alternate e poi cominceremo i condensatori l'elettrostatica dei condensatori ricordatevi di Kirchhoff che tanto non lo userete mai ma forse all'esame ve lo chiederanno le due leggi di Kirchhoff quella dei nodi e quella delle maglie ma te non è il presidente ha reso il tempo boh di Kirchhoff Grazie.